Ciao da Absim! Usiamo l'hashtag Allegri Out incessantemente, quotidianamente su tutti i social, post, tweet, commenti, dappertutto. Facciamo sentire il nostro dissenso, protestiamo fino alle dimissioni. Ribadirò questo concetto il più possibile su questo canale fino alla noia, ma cercando di essere efficace e coinvolgere più persone possibili in questa protesta fino alle dimissioni di Allegri perché ce la possiamo fare, non è finita, possiamo vincere. Dovessero servire giorni o settimane, ma prima dell'inizio della prossima stagione riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Noi, tifosi della Juventus, che non vogliamo Allegri. Poi ci sono i tifosi della Juventus che vogliono Allegri. E allora mi permetto di tagliarmi questo spazio e di chiedervi ancora una volta la pazienza del vostro tempo prezioso e grazie mille per questo per parlare delle reazioni un po' inconsulte, delle reazioni non consone, delle reazioni comunque legittime, ma sì, diamo la legittimità tranquillamente a tutti quanti dopo questa conferma, tra virgolette, di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus da parte di Maurizio Scanavino. Intanto la cronologia di questa giornata di ieri, di questo 7 giugno, che comincia in realtà nella serata del 6 giugno, nel pomeriggio del 6 giugno, con le indiscrezioni sull'uscita dalla Superlega. E poi il comunicato ufficiale della Juventus, in cui non si dice siamo usciti dalla Superlega, si dice, e Scanavino poi lo conferma nel ormai celebre, che segnerà la storia della Juventus, intervista a Sky Sport, abbiamo mandato una lettera a Real Madrid e Barcellona, che sono gli unici altri due club che sono rimasti, che non hanno esercitato il recesso dalla Superlega, per avviare un discorso, per avviare un dialogo e quindi eventualmente valutare se uscire da questa Superlega. Perché partiamo da questo? Perché con questa presa di posizione della Juventus abbiamo registrato, per la prima volta, e ve ne parlavo ieri mattina, delle reazioni anti-Juve, da parte degli Juventini, tipicamente della motorizzazione, che hanno distribuito le patenti di tifo per anni. Quindi incredibilmente abbiamo scoperto che si può essere contro la Juve, pur rimanendo i Juventini, che si possono distinguere i piani tra essere tifoso ed essere d'accordo, tifare e essere accondiscendente. Il tifo è anche di senso. Forse in questi giorni lo stiamo apprendendo anche quanto può essere importante protestare, quanto può essere importante esprimere di senso. Cosa che tra l'altro la tifoseria di Juventino, quando non era così pigra, quando non era così passiva, quando non era così apatica, ha sempre fatto. Mi citavate, lo leggevo, perché poi io all'epoca, ne ricordo poco, ero piccolo, ma quando c'era Ancelotti di proteste ne furono fatte da parte dei tifosi. E non si era poco Juventini, non si era meno Juventini solo per questo. Adesso, in questi anni di narcotizzazione agnelliana, perché di questo stiamo parlando, in questi anni di assuefazione al vincere, no? E quindi ai trofei, allo scudettino annuale, si è passati veramente ad una passività, ad una apatia ingiustificabili. Però possiamo ancora vincere, possiamo ancora rimontare, possiamo ancora contraattaccare, possiamo ancora recuperare, recuperare facendo constare il nostro dissenso. Chi ce l'ha il dissenso? Non siete costretti, ovviamente, ma neanche a far nulla. Io invito solo chi liberamente vuole a dare, a darvi un senso. Cerco solo di dare un senso alle vostre azioni, alle vostre proteste, a dirvi ce la possiamo fare. Non siete soli, non siamo soli, e non è inutile quello che fate. Può raggiungere uno scopo, possiamo cambiare la storia. Quindi ribadisco, usate l'hashtag AllegriOut, o scrivete quello che vi pare, ma manifestate il vostro dissenso e protestate. Come hanno protestato, appunto, gli juventini perbenisti, gli juventini buonisti, quelli che non si contesta Agnelli perché ci ha fatto vincere, grande presidente, addirittura gli fanno i post strappalacrime sui social con la foto, sono vicino al mio presidente, sono vicino al mio presidente, sta roba qui. Che poi sono anche incidentalmente allegriani il più delle volte, quindi anche le immagini di Allegri grafiche, di Allegri con i trofei, che ha vinto lui, ce li ha lui a casa, non solo della Juventus, dimenticando quello che è successo in questi due anni. Ma, veramente, c'è ancora bisogno di argomentare? C'è ancora bisogno di dire lo schifo che abbiamo visto in questi due anni? Lo riepiloghiamo rapidamente. Due anni senza vincere i trofei, mai competitivo per vincere lo scudetto, eliminazioni umiliante dalla Champions League per due volte, una volta agli ottavi, una volta ai gironi, battendo tutti i record negativi della storia della Juventus, mancato l'aggiungimento della finale di Europa League, che comunque si è arrivato in semifinale senza sapere come, nessun gioco, nessuno schema, nessuna valorizzazione di nessun giocatore, anzi giocatori sviliti, frustrati, nervosi, che non capivano come venivano allenati, che facevano anche loro sentire la loro voce di dissenso, di contrarietà alla gestione tecnico-tattica, e poi abbiamo le dichiarazioni contro i tifosi, le dichiarazioni contro la Juventus, le dichiarazioni contro i giocatori, le dichiarazioni contro gli avversari, le dichiarazioni inascoltabili, inaccoglibili, vergognose, a più riprese, e mi fermo qui. Però questo è il riepilogo dello schifo di queste due stagioni. A proposito, c'è la maglietta che trovate nella vetrina qui sotto, se vi va di acquistarla, con il riepilogo sopra, trovate scritto tutti i record negativi della Juventus con Allegri 21-23. Cioè, proprio, li ho scritti tutti quelli che ho trovato, poi probabilmente ce ne sono anche degli altri, però se volete utilizzare con un vessillo, volete avere un simbolo, ci sono anche gli sticker e i poster, se volete spendere poco e avere una cosa più facile anche da utilizzare. Magari un bello sticker, facile facile, piccolo piccolo, lo sistemate dove volete, e così lo fate leggere, lo fate vedere a chi non ha capito. Ecco, dici, ma questo è lo schifo, questo è il livello bassissimo dove siamo arrivati con Allegri in questi due anni. Per riepilogare, proprio uno non vuole perdere tempo ad ascoltare, a guardare video, basta leggere perlomeno tutti i record negativi che sono stati raggiunti in queste due stagioni che sono tutti veritieri, non c'è nulla di inesatto, non c'è nulla di inventato, accompagnato ovviamente e sempre dall'hashtag Allegri Out. E tra quelli che hanno reagito, diciamo positivamente a questa conferma, anche se stiamo parlando per lo più di tifosi, stiamo parlando per lo più di tifosi che non ragionano particolarmente, non ti fanno quella riflessione particolarmente approfondita, ci sono anche quelli che godono per me, che godono per voi, cioè ci sono quelli che sono contenti della conferma di Allegri, perché così gli anti-Allegriani stanno zitti. Ma non vi preoccupate, stiamo zitti, nel senso, adesso la Juventus, fino alle dimissioni di Allegri, perché noi continuiamo a combattere, è roba vostra. Adesso ve la consegniamo. Noi sapete come siamo in questo momento? Siamo come le truppe di massimo decimo meridio, accampate a Ostia, in attesa di essere riattivate. Lo so che poi non finisce benissimo per alcuni di loro e per il gladiatore stesso, però si conquista la libertà, però si vince la guerra finale. E quindi siamo in questa situazione, diciamo, un po' appartati, cioè siamo quelli che dovrebbero stare dentro con l'uniforme, con la divisa ufficiale, quelli che dovrebbero stare dentro pienamente legittimati a fare il loro lavoro e che invece sono stati destituiti, si sono accampati fuori in attesa di soppiantare, in attesa di ribaltare la situazione. Quindi ve la consegniamo la Juventus, siete contenti perché noi adesso abbiamo perso, pensate che abbiamo perso, non abbiamo perso nulla perché chi ha dignità e libertà non perde mai, però vi consegniamo momentaneamente, noi vi consegniamo la Juventus, vediamo che cosa siete in grado di fare. Mentre noi lavoriamo ai fianchi, lavoriamo intorno alle mura di cinta per trovare il varco e per sorprendervi quando meno ve lo aspettate per combattere per le dimissioni di Allegri. Ma appunto ci sono quelli che dicono ecco adesso Absim che cosa farà, addirittura chi dice che io avrei esultato perché solo con la conferma di Allegri posso continuare a fare video, evidentemente gente che non riesce neanche a guardare, cioè non è che non sa leggere, non sa capire, non sa neanche vedere, che io faccio video da che c'era Allegri, poi se n'è andato, sono stato due anni senza Allegri che ho continuato a fare video, il canale è cresciuto, si parlava di calcio, si stava benissimo, erano bei tempi, erano momenti magici, pur con tutte le criticità, tutte le difficoltà, tutti i nervosismi, tutte le insoddisfazioni che abbiamo vissuto negli anni di San Riepiro, poi è tornato Allegri e c'è stato invece un crollo, c'è stato un rallentamento del mio canale, c'è stata un'intossificazione della community fin dai primissimi momenti per colpa loro, per colpa loro che adesso hanno anche il barbaro coraggio di esultare. E poi ci sono quelli fantastici, quelli meravigliosi che adesso ce la vogliono spiegare e quindi ci dicono io tifo per la Juventus e non per l'allenatore. Ecco, salviamoceli questi, che facciamo? Ce li vogliamo salvare questi tweet? Ce li vogliamo salvare questi post? Magari ce li salviamo così poi se dovesse succedere quello che speriamo le dimissioni di Allegri con la sostituzione con l'allenatore vediamo che cosa dicono. Andiamo a vedere se loro sono per la Juventus a prescindere dall'allenatore o sono per l'allenatore a prescindere dalla Juventus perché poi adesso ce la vogliono spiegare no appunto vogliono fare vogliono fare quelli che hanno capito i puri quelli che hanno vinto quelli che sono dalla parte giusta ma chi chi è contento di stare dalla parte giusta è un mediocre è sempre così i mediocri si mettono dalla parte giusta perché non hanno armi non hanno strumenti non hanno qualità non hanno vantaggi non hanno nulla di positivo per andare avanti da soli quindi hanno bisogno di stare dalla parte giusta così c'è qualcuno che lavora per loro hanno bisogno di mettersi sotto l'etichetta di quelli bravi di quelli buoni di quelli che stanno vincendo salgono sul carro del vincitore sistematicamente e quindi loro saliranno salirebbero sul carro del vincitore anche nel caso speriamo di dimissioni di Allegri e di arrivo del nuovo allenatore cadendo sempre in piedi però sarebbero in grande difficoltà sarebbero in grandissima difficoltà se veramente Allegri andasse via a questo punto non possiamo più dire venisse cacciato perché la società ha deciso di non esonerarlo per i motivi che vi ho spiegato nel video precedente e cioè per porlo con le spalle al muro e sperare che si dimetta e combatteremo combatteremo e vinceremo questa battaglia perché alla fine vada a dimettersi però hanno sperimentato questi tifosi appunto con il discorso Superlega per la prima volta forse che cosa si prova a non essere perfettamente in aderenza con le posizioni della Juventus ad avere diciamo un qualche pensiero critico a discostarsi però non sono stati da soli anche lì sono stati sul carro dei vincitori perché perché c'è un bel carro grosso di Agnelliani che si contrappone alla Juventus Elcaniana e di Scanavino e di Calvo quindi di questi che la gestiscono adesso e allora era anche facile ieri passare da sono contro la dirigenza della Juventus perché escono dalla Superlega e il resto ancora più contro la dirigenza della Juventus perché hanno confermato Allegri nonostante ripeto ci siano gli Allegriani perché poi c'è anche chi è un po' una via di mezzo con tutto questo vento Allegri Out che monta e con obiettivamente l'ingiustificabile non è d'accordo con la conferma di Allegri anche se diciamo che si è discostato da Allegri dalla sua gestione nefasta ben poche volte ben poche volte poi appunto si fanno i perbenisti allora si dice sì il dissenso però fino ad un certo punto perché poi devi comunque essere dalla parte della Juventus nonostante siano stati in grado di non capire che la Juventus se esce dalla Superlega fa solo il proprio bene perché non c'è nulla a che fare con la Superlega che tra l'altro non esiste non abbiamo nulla a che fare non possiamo trarre nessun beneficio dalla Superlega e sarebbe ed è un'iniziativa agnelliana per gli interessi di Agnelli addirittura se puoi ottenere un vantaggio dall'uscita dalla Superlega fronte UEFA ben venga qual è il problema perché il tifoso dovrebbe sposare una battaglia politica che sta sopra le sue teste e sopra la sua testa e che non riesce a toccare con me perché il tifoso dovrebbe farsi trascinare in una battaglia per cambiare il calcio europeo cosa gliene frega al tifoso che guarda la partita e che non fa ragionamenti fini e che non va ad approfondire e quindi a fare dei ragionamenti un pochino più complessi nulla questo si tratta di pesca strascico stanno cercando di portarsi dietro i tifosi della Juventus fomentandoli ecco all'anti Juve all'anti Juve quindi si può fare perché la UEFA ci ha minacciato perché si deve stare nella Superlega e in realtà non è altro che Agnellismo Andrea Agnellismo che in questo momento è in contrasto con la Juventus e quindi guardate quanta ipocrisia vedete quanta ipocrisia loro sono contro la dirigenza perché esce dalla Superlega però poi vanno in contraddizione tornano alcuni altri invece cercano un po' appunto di assestare il colpo di stare un po' una via di mezzo tornano a favore della dirigenza o comunque rientrano nel posto caldo al calduccio sotto l'alla protettiva della Juventus perché la Juventus conferma Allegri e ce la vengono anche a spiegare ma io non sono per l'allenatore io sono per la Juventus e quindi capo capo di questa capo di questa ipocrisia capo di questo punto di vista chi è? ma chi poteva essere? chi poteva essere se non padre Gianni padre Gianni Balzarini padre perché padre perché con i suoi sermoni non fa che darci praticamente indicarci la retta via non fa che non fa che darci anche una una visione religiosa quasi della Juventus quindi con questo perbenismo che proprio trasuda cioè io ho guardato il suo video di ieri che ha giustamente criticato e commentato anche il buon il buon David nati per vincere e mi sono sentito proprio inumidito a un certo punto mi sentivo sudato però non avevo caldo ho detto ma che cos'è ed era il perbenismo di padre Gianni che mi aveva praticamente bagnato mi aveva proprio completamente completamente ricoperto quindi è stata anche un'esperienza se vogliamo mistica ecco che cosa dice Gianni Balzarini e brevemente però una menzione assolutamente andava fatta perché io certe cose non le posso accettare lui dice che è inaccettabile che è inaccettabile ed è ingiustificabile cioè lui lui parla di inaccettabile ed ingiustificabile lui che ha accettato l'inaccettabile ha giustificato l'ingiustificabile ha difeso l'indifendibile di scostarsi dalla Juventus non tifare più la Juventus perché resta allegri lui ci dice che è ingiustificabile ed è inaccettabile quindi per l'ennesima volta Gianni Balzarini che dovrebbe essere solo un giornalista ma dovrebbe fare il giornalista si erge a capo della tifoseria capo morale capo spirituale padre Gianni padre Gianni Balza padre Balza chiamatelo come volete Don Balza quello che c'è non lo so Don Gianni quello che volete ma davvero davvero un padre spirituale una guida spirituale di tutti noi ci dice che cosa è giusta e che cosa è sbagliato così proprio in maniera manichea ecco se state di qua state dalla parte giusta se state di qua state dalla parte sbagliata il bianco e il nero non ci sono vie di mezzo e chi lo decide lo decide padre Gianni e quindi ci dobbiamo sentire da meno secondo lui noi ci sentiremmo da meno perché lui ci ha squalificati perché lui ci ha scomunicati è arrivata la scomunica di padre Gianni e come faremo adesso come faremo a sentirci i giuventini se padre Gianni non è d'accordo con quello che facciamo cioè lui lui che non è stato così critico nei confronti di Allegri come lo è stato nei confronti di Pirlo come lo è stato nei confronti di Sarri lui che quando c'erano Sarri e Pirlo si poteva scaricare l'allenatore contestare l'allenatore criticare l'allenatore essere insoddisfatti lì lì non c'erano dei ragazzi dei poveri giocatori dei poveri ragazzi che vanno in campo a dare tutto e che devono essere sostenuti lì non c'erano lì si poteva tranquillamente mettere in difficoltà la Juventus è il suo allenatore adesso no adesso dopo che Allegri ha distrutto i ragazzi dopo che Allegri ha svilito i giocatori dopo che Allegri li ha resi infelici e frustrati Balzarini padre Balza ci dice che dobbiamo essere tutti quanti appiattiti su Allegri perché Allegri è la Juventus e Allegri è i giocatori con i loro sforzi e con le loro sofferenze quindi non possiamo abbandonare i giocatori e perdona abbandonare i giocatori e la Juventus dobbiamo stare dalla parte di Allegri chiudiamo il dissenso poi lui dice anche no in realtà il dissenso i punti di vista diversi sono legittimi però sono legittimi però cosa la libertà di espressione però però cosa la libertà di espressione punto il dissenso punto e allora io dico a Gianni Balzarini a chi la pensa come lui perché lui parte a fare questo video prendendo spunto da un utente perché appunto davvero è pieno no è pieno adesso no è inaccettabile non ti fare più non sostenere più non guardare più non interessarsi più perché rimani Allegri ma ognuno decide quello che è accettabile non ci imponete nulla come si può parlare di libertà di espressione definendo un'opinione inaccettabile capite che è una contraddizione inaccettabile io rispetto il punto di nonostante nonostante venga a calpestare il mio spazio di libertà io il punto di vista di Balzarini lo rispetto mi permetto di chiamarlo padre Balza perché davvero mi sembra che si comporti come un padre spirituale padre Gianni e quello ripeto ci dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e ci scomunica anche se dice io qui non distribuisco patenti di tifo non si tratta di fare tifosi in serie A di serie B no ma è quello che stai facendo ma d'altra parte qual è il modus superandi lo stesso di Allegri Allegri accampa 200 scuse tira in ballo 200 alibi e poi dice io gli alibi non li voglio è la stessa cosa che fa Balzarini distribuisce patenti di tifo e poi dice chi dice il contrario di quello che fa e nella vita prevale sempre quello che fai e mai quello che dici chi predica bene è proprio il caso di dire e razzola male risulta poi che ha fatto male non chi ha predicato bene tranne per chi si limita alle chiacchiere e allora che cosa dovremmo fare secondo secondo padre Gianni dovremmo tutti quanti ricacciarci sotto l'ala protettiva della Juventus e far finta di nulla va bene così ma lo riuscite a capire il discorso che Allegri ci ha sviliti ci ha umiliati ha calpestato la Juventus ha distrutto la Juventus che cosa significa continuare a tifare continuare a tifare per cosa continuare a sperare che cosa l'eterno ritorno dell'uguale che cosa può succedere di diverso nella terza stagione di Allegri rispetto alle prime due che già sono andate già sono state indecrescendo già sono state un peggioramento continuo e costante come io tra l'altro avevo previsto ma non è che fosse difficile prevederlo quindi che cosa che cosa dovremmo fare da cosa dovremmo essere coinvolti travolti entusiasmati esattamente oppure si deve tifare Juventus anche se si tratta di soffrire solo perché ci è capitato di essere Juventini ma noi non siamo iscritti all'albo della Juventinità non c'è un albo dei tifosi come c'è l'albo dei giornalisti con una deontologia che andrebbe rispettata senza sproloquiare e senza fare la morale a nessuno perché quando visto che Gianni tra l'altro è effettivamente una persona per quello che lui dice religiosa quando vai a vedere la pagliuzza nell'occhio del tuo del tuo vicino dovresti vedere la trave che c'hai tu ecco quindi invece di fare la morale agli altri che si esprimono liberamente e legittimamente bisognerebbe andare a vedere la propria libertà se uno ce l'ha la propria dignità se uno ce l'ha i propri condizionamenti se uno ne è privo noi non abbiamo condizionamenti uno però deve vedere se ce l'ha a lui i condizionamenti se ce l'ha a lui dei vantaggi economici se ce l'ha a lui la libertà effettivamente prima di fare la morale agli altri guardiamo la trave che c'abbiamo noi invece di andare a vedere la pagliuzza che c'hanno gli altri perché di questo stiamo parlando non siamo iscritti all'albo della giuventinità e dei tifosi siamo liberi di fare quello che ci pare e siamo liberi di scrivere costantemente incessantemente quotidianamente allegri auto su tutti quanti i social fino alle dimissioni fino alle dimissioni e poi vediamo e ci divertiremo speriamo quando dovesse accadere quello che speriamo nel vedere questi stessi tifosi che ci dicono e compreso Balzarini che alla fine è uguale no noi tifiamo per la squadra non per l'allenatore se cambia l'allenatore se cambia anche il loro punto di vista se si autosbugiardano se vanno in contraddizione e manifestano la loro ipocrisia oppure riescono a stare lineari e coerenti e dire ok Allegri si è andato continuo a sostenere lo stesso allenatore e continuo a attivare la Juventus allo stesso modo di prima ma siccome sono cose che noi abbiamo già visto perché già è stato è stato esonerato Allegri nel 2019 e ci sono stati due anni senza di lui e abbiamo visto che cosa succede da parte di certe persone anche per questo così come per la permanenza di Allegri non c'è nulla da aspettarsi di diverso c'è solo da aspettare che accada l'inevitabile quello che è sempre successo quello che già abbiamo visto perché gli schemi sono questi il modus superandi è questo qui e quindi io respingo categoricamente per quanto riguarda me e provando a far da da scudo umano e da protezione anche per quanto riguarda voi queste accuse e queste questo fastidio da perbenista di Gianni Palsarini rispetto ad una protesta legittima e che non va assolutamente non dovete proprio permettervi di fermarla non dovete proprio permettervi di fermarla perché adesso basta avete provato già a tapparci il naso le orecchie gli occhi e la bocca per troppo tempo alcuni hanno anche accettato di farsi tappare tutto e di andare avanti appunto turandosi il naso sopportando l'insopportabile ma adesso basta la misura è colma avete avete sguazzato per troppo tempo nelle miserie della Juventus e adesso intanto ve la consegniamo momentaneamente provvisoriamente vediamo che cosa siete capaci di fare con i giudizi con i commenti con le analisi visto che non avrete più noi dentro la tifoseria a darvi fastidio e quindi ve la cantate ve la suonate ma lavoreremo ai fianchi come l'esercito di massimo decimo meridio accampato a Ostia ma siamo pronti ad entrare in gioco aspettando le dimissioni fino alle dimissioni allegri out grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti anche a Gianni Balsarini che però non commenterà perché non ha ancora capito che deve guardare l'obiettivo e non l'immagine di se stesso riflessa non l'immagine di se stesso nel display del telefono già gliel'ho detto un po' di tempo fa evidentemente non mi ha sentito quindi non mi sentirà neanche questo perché continua a non guardare in faccia a chi lo ascolta ma a guardare se stesso nel telefono quindi ancora non ha capito che c'è una videocamera interna e quindi penso che non mi ascolterà e non risponderà ma buon dibattito nei commenti in ogni caso like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi anche sul mio secondo canale Abzimout primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e fino alla fine sempre allegri out grazie a tutti grazie a tutti